Il cane è grande circa il doppio del macaco, ma cercare di portargli via il cibo è stato un grosso errore. Le zanne e il ringhio del cane non hanno fatto alcuna impressione sul primate. Si è precipitato in battaglia e con lui i suoi parenti. Il cane ha dovuto correre con la coda tra le gambe. Un pitone ha attaccato un gruppo di macachi. Il serpente sperava che quando si sarebbe attaccata una folla di vittime, almeno una sarebbe stata catturata. Il rettile aveva ragione. Sta già stringendo il povero animale nei suoi anelli. Il pitone è incredibilmente potente. Per strangolare la vittima non ha bisogno di cercare il collo. Stringe l'intero corpo della scimmia, spremendole gradualmente e letteralmente l'aria fuori dai polmoni. Inoltre il rettile frantuma le ossa e danneggia gli organi interni della sua preda. Solo una cosa non è andata secondo i piani. Uno stormo di scimmie, invece di scappare in preda al panico in diverse direzioni, ha cominciato a circondare il nemico. Vogliono riconquistare il loro amico e salvarlo. Devozione inaspettata ai propri simili, soprattutto considerando che all'interno del branco non esiste la morale della gentilezza. Spesso si verificano litigi e la condivisione del cibo non funziona. Ma un nemico comune è un buon motivo per unirsi. Il serpente non se lo aspettava. Sembra scoraggiato. Ci sono macachi da tutte le parti. Sono cauti e non hanno fretta di avvicinarsi. Ma il rettile non tenta di attaccare un altro primate, perché non è sicuro di aver ancora ucciso la prima vittima. Ma l'accerchiamento si sta restringendo e le scimmie più coraggiose stanno cercando di far uscire il loro parente dagli anelli del pitone. Il serpente deve respingere l'attacco e lanciarsi contro i primati inaspettatamente coraggiosi. Tuttavia il rettile non è riuscito a raggiungere nessun altro. E sebbene abbia sopraffatto la vittima e sia riuscita a ingoiarla, i primati si sono radunati attorno al rettile. Sembra che piangano per la loro perdita. Se pensi che questo sia un caso unico, ti sbagli. Anche se un pitone è da 5 a 7 volte più lungo di un macaco, ciò non gli dà comunque un chiaro vantaggio rispetto a una simile vittima. La scimmia si difenderà disperatamente, anche se la battaglia si svolgerà a condizioni sfavorevoli per lei. Ad esempio la fotocamera ha catturato un caso in cui un pitone ha cercato di catturare un macaco nell'acqua. Lì il serpente ha un vantaggio. L'acqua sostiene il grande peso dell'animale senza gambe e ne aumenta notevolmente l'agilità. Ma le zampe del primate al contrario si restringono a causa della densità dell'acqua. Ma la scimmia reagisce disperatamente e non solo non permette alla mascella del serpente di chiudersi sul suo corpo, ma contrattacca anche con successo. Senza potenti artiglie e zanne il macaco non sarà in grado di infliggere danni mortali a un nemico così serio, ma sarà in grado di picchiarlo senza problemi. Il serpente non si aspettava un simile rifiuto. La scimmia è incredibilmente attiva. L'erettile può correre e infliggere un morso, ma la sua arma principale erano le mascelle, con le quali schiaccia e trattiene la preda, mentre il resto del corpo lancia i suoi anelli. Se il primate si è allontanato abbastanza dalla testa ed è costantemente in manovra, ha la possibilità di evitare il lancio continuando a colpire e mordere il corpo dell'avversario. Anche se il pitone riesce a sconfiggere una scimmia, i suoi compagni del branco non gli permetteranno di iniziare con calma a consumare il cibo. Un pitone può ingoiare la preda intera anche se sembra molto più grande della testa del collo. Grazie alla sua faringe mobile, il serpente è in grado non solo di ingoiare un macaco, ma anche un piccolo cervo. Ci vuole solo un po' di impegno. Mentre si nutre, il serpente è vulnerabile, perché non sarà in grado di attaccare una persona insolente che interferisce nel processo. Il pitone lo sa e le scimmie lo sanno. Di conseguenza, il rettile semplicemente non può iniziare a mangiare, poiché i nemici lo attaccheranno immediatamente, volendo, se non vendicarsi, almeno scacciarlo e sfogare la loro aggressività sul nemico. Sì, il serpente si è occupato della vittima, ma a cosa è servito? È improbabile che i primati inseguano davvero il pitone per molto tempo o lo custodiscano, non permettendogli di cenare. Ma i primati faranno di tutto per dimostrare che cacciarli richiede molta più forza di quella che un predatore otterrà da un simile pasto. La scimmia stava pranzando sulla riva e un pezzo di cibo cade nell'acqua. Il pesce se ne accorge e decide di raccogliere il cibo, ma si è trattato di un errore. Il primati ha regito in modo inaspettatamente aggressivo. Sembrerebbe che il cibo sia caduto e l'animale non abbia voluto raccoglierlo. Ma la scimmia si è rifiutata di condividere con il pesce in forma più aggressiva. È difficile dire cosa sta succedendo esattamente qui. Mi viene in mente solo una versione. La scimmia sta semplicemente prendendo in giro un intero gruppo di tigri. I grandi felini sono nell'acqua, il che rende difficili i loro movimenti, ma riescono comunque a saltare a grandi altezze. Tuttavia questo non li aiuta. Non sanno con chi hanno litigato. Questo primate sa come farti impazzire. La scimmia sembra far finta che ancora un po' e cadrà dritta negli artigli dei suoi nemici. Le tigri stanno solo aspettando questo, ma non aspetteranno poiché ogni movimento del primate viene calcolato. Due primati hanno deciso di prenderne un altro come animale domestico. Almeno questa è l'impressione che si ha vedendo questa scena. Due enormi gorilla non riescono a condividere la scimmia dalla coda e la stanno letteralmente trascinando. Il piccolo primate è sotto shock. Non pensava che sarebbe stato diviso in quel modo. Inoltre i gorilla sono molto attenti. Non sembra che facciano male al bambino, ma sembra ancora piuttosto spaventoso, non è vero? Quando i macachi si riuniscono in enormi stormi, la situazione diventa un po' inquietante, non è vero? Ma non sono le scimmie più pericolose e potenti del mondo. Questo pitone ha commesso l'errore più grande della sua vita. Ha attaccato i babbuini. Anche questi primati si riuniscono in branchi. E sebbene ogni babbuino sia molto inferiore a uno scimpanzeo o un gorilla, anche un solo primate di questa specie rappresenta una terribile minaccia. E con i loro sforzi congiunti riescono a combattere anche un serpente enorme, lungo quanto un'auto. Questo pitone non sapeva con chi stesse scherzando. Quando i babbuini si sono ripresi dallo shock iniziale, hanno attaccato il serpente con una furia incredibile. Guarda come hanno iniziato senza sforzo a trascinarlo per terra insieme alla loro preda. I colpi di un babbuino possono facilmente perforare le scaglie di un grosso serpente. E le sue zanne sono un'arma, la cui sola vista metterà a disagio anche una leonessa esperta. E persino strano come denti così lunghi entrano nella bocca di un primate. E non ha paura di usarli. Grazie alla capacità di spalancare inaspettatamente la bocca, il babbuino morde ancora e ancora affondando i denti in profondità nella carne del bersaglio. Nel mondo moderno non esistono gli smilodonti, ma abbiamo i babbuini, le scimmie dai denti a sciabola. Ma la cosa principale è la sua velocità e indomabilità. La scimmia combatte con movimenti leggermente veloci, afferra, colpisce e morde e infligge da diversi lati. Un intero stormo di impavidi primati rabbiosi ha fatto piovere una vera grandinata di colpi sul pitone. Il serpente non uscirà facilmente da questo pasticcio. Anche se sopravvive e riesce a strisciare via, il danno che riceve gli impedirà di cacciare in modo efficace. Ma molto probabilmente i babbuini non libereranno il rettile vivo. Per molto tempo i macachi in Thailandia hanno vissuto molto bene. I residenti locali non li hanno allontanati nemmeno dal territorio di una città densamente popolata. Lì i grandi predatori non li hanno attaccati, ma c'era cibo in abbondanza. Per i turisti provenienti dall'Europa o dall'America, un piccolo primate che non ha paura degli umani e si avvicina coraggiosamente per una sorpresa è una vera curiosità e un piacevole ricordo. Di conseguenza i macachi si sono abituati al fatto che gli esseri umani hanno sempre cibo, il che non richiede alcuno sforzo per ottenerlo. Ci sono anche bidoni della spazzatura e bancarelle di frutta aperte. Di conseguenza la popolazione dei macachi è cresciuta fino a raggiungere proporzioni incredibili. Ma quando a causa del crollo del turismo i viaggiatori erano molti meno, i primati thailandesi hanno iniziato non solo a mendicare, ma a rubare il cibo. Ma se pensi che questa sia la fine, ti sbagli. Le autorità locali hanno sottovalutato il problema. Sembra che le persone semplicemente non sapessero in cosa si sarebbero cacciate quando hanno permesso agli animali selvatici di stabilirsi nelle città circostanti. I macachi hanno cominciato a unirsi in veri e propri clan ed eserciti composti da diverse centinaia di individui ciascuno. Hanno diviso le aree della città in cui abitavano e hanno organizzato non solo incursioni nei bidoni della spazzatura, ma anche vere e proprie battaglie tra di loro. E' interessante notare che anche un enorme stormo di scimmie di solito evita le persone. Tuttavia, lo scontro tra due eserciti di primati per il bene di una banana marcia sembra spaventoso allo stesso tempo. Naturalmente questi primati non si preoccupano del traffico e possono iniziare una massiccia battaglia proprio nel bel mezzo della giornata in un incrocio trafficato. Le auto si fermano. Gli automobilisti ora sicuramente non avranno il tempo di andare da nessuna parte, ma potranno guardare un film d'azione dal vivo. La cosa principale è non cercare di intervenire e separare le parti. E' improbabile che rimanga qualcosa del cibo per il quale vengono organizzate tali lotte. Le scimmie volano l'una contro l'altra e formano qualcosa come un'enorme palla di dozzine di primati in costante combattimento. Centinaia di zampe, zanne, occhi furiosi e un urlo che fa sì che gli animali selvaggi della giungla abbiano ancora più paura delle città. Sembra anche un po' fantastico, vero? In genere i primati non si feriscono a vicenda in modo troppo grave, nemmeno nei combattimenti più intensi. Ma ciò non significa che non ci provino. Passano semplicemente troppo velocemente da un obiettivo all'altro. Ciascuna scemia riesce a combattere dozzine di avversari in un combattimento. Allo stesso tempo sembra che abbiano una sorta di tattica. Si attaccano a vicenda più o meno armoniosamente, mantengono la prima linea e allontanano il gruppo più debole dalle posizioni vantaggiose. Ma coloro che si ritirano non si limitano a scappare in pre dal panico, ma si ritirano gradualmente e si coprono a vicenda. Non appena almeno una coppia di scimmie inizia a litigare, si uniscono immediatamente a loro un'altra dozzina per parte. Queste scimmie sono sorprendentemente fedeli ai membri dei loro gruppi, quindi li sostengono in battaglia e rispondono immediatamente con un colpo a qualsiasi provocazione. È interessante notare che le scimmie sono diventate abbastanza brave a ricoprire posizioni fortificate o elevate. Mentre un gruppo trattiene l'assedio, i suoi nemici attaccano. Sembra piuttosto divertente, considerando che l'altezza del muro della fortezza non raggiunge nemmeno l'altezza del ginocchio. Solo che quando ci sono diverse dozzine di primati e la battaglia dura mezz'ora o anche di più, la gente non si diverte. I primati, che hanno occupato le vette, buttano a terra i loro avversari e li respingono severamente. Ma l'esercito che avanza continua il suo attacco ostinato. Nel frattempo, il traffico è paralizzato. Si può solo essere contenti che questa guerra delle scimmie di strada abbia colpito quelle specie di primati che non sanno usare bastoni e pietre come armi. Ma questo combattimento corpo a corpo sembra piuttosto brutale, considerando che la dimensione di ciascun macaco è inferiore alla lunghezza del braccio di un adulto. Ma anche passare davanti a questi animali arrabbiati diventa un po' spaventoso, anche se di solito raccolgono solo tributi dalle persone sotto forma di cibo e possibilmente qualcosa di luccicante. Questi abili macachi sono anche borseggiatori. Tuttavia, chi vorrebbe regalare a una scimmia il suo nuovo telefono? Allo stesso tempo, diverse generazioni di macachi sono già cresciute e vivono in questo modo nelle città. Difendono ferocemente le loro terre dai parenti selvaggi della foresta, come se le città appartenessero alle scimmie. Forse questo protegge le città da un afflusso ancora maggiore di primati, ma il problema è che i macachi, abituati alla città, non sanno come sopravvivere nella foresta. Anche se sono esperti nelle battaglie tra loro, non sanno come procurarsi il cibo da soli. Inoltre, i predatori rappresentano una minaccia maggiore per loro che per i loro parenti selvatici. Possiamo solo sperare che gli attivisti per i diritti degli animali e le autorità riescono a capire come risolvere questo problema. Il momento peggiore è stato nel 2019, al culmine della crisi del turismo. Ma anche adesso non dovresti sottovalutare le bande di macachi tailandesi di strada. Ecco un angolo desolato di terra bruciata. Qui il sole governa brutalmente e brucia tutto. Non c'è acqua, non c'è ombra. Solo il caldo debilitante di giorno e il freddo bruciante di notte. Tutto ciò rende questi luoghi più volienti della terra. Poche persone possono sopravvivere qui. È un luogo in cui l'esistenza è una lotta costante. Un posto in cui chiunque può perire all'istante. E in questo campo di battaglia desolato, la vita per uno significa la fine di tutto per l'altro. Ai margini delle sabbie, dove la vita è costantemente al limite, vive un animale che si adatta perfettamente alle difficoltà del terreno. Questo abitante del deserto è un piccolo felino di cui potresti non aver mai sentito parlare. Il gatto delle dune, un vero maestro della sopravvivenza nelle sabbie calde e morte. Il gatto di Barkana prende il nome dalle infinite barcane del deserto del Sara. Dune enormi, dove a metà del XIX secolo questi piccoli gatti selvatici catturarono per la prima volta l'attenzione del francese Jean Marguerite, che stava conducendo una spedizione in queste regioni calde. Il gatto di Barkana, sabbia o deserto. Questo animale ha ricevuto molti nomi e vive nei deserti del Nord Africa, della penisola arabica e dell'Asia centrale. Il gatto di Barkan rimane un mistero per l'uomo moderno, nonostante il fatto che la specie sia stata scoperta più di cento anni fa. Molti non sanno nemmeno dell'esistenza del gatto selvatico, delle dimensioni di un gatto domestico. Questo animale è piuttosto segreto, preferisce uno stile di vita notturno. Ma con lo sviluppo di localizzatori GPS e un sistema di sorveglianza satellitare, gli scienziati possono studiare i gatti Barkan senza catturarli o impedire loro di vivere tranquillamente lontano dagli umani. Ogni animale ha il suo posto nell'ecosistema. La natura ha dotato il gatto Barkan di tutto per una vita confortevole in un clima infernale. Queste bellezze beige sono gli unici gatti che vivono prevalentemente nei deserti e sono semplicemente costruiti per sopravvivere nell'ambiente più difficile. La loro disposizione è pacifica rispetto ad altri gatti selvatici che sono piuttosto feroci. Un viso carino con orecchie aperte, basette soffici sulla testa, una folta pelliccia color sabbia. Sembrano simpatici gatti domestici. Tuttavia, questi felini sono veri predatori spietati, abitanti insoliti di territori afosi e aridi. Non sono inferiori a nessuno. Prima di tutto, le minuscole dimensioni del predatore attirano l'attenzione. In termini di dimensioni, il gatto Barkan è uno dei più piccoli della famiglia felina e di dimensioni è molto inferiore al resto delle specie vicine, incluso il gatto domestico. La sua altezza algarrese è di soli 25-30 cm e la lunghezza del corpo, insieme alla coda, non supera i 90 cm. La testa del predatore è grande, larga. Sembra ancora più ampia a causa delle spesse basette, che si trasformano dolcemente in grandi orecchie pelose. La particolarità della forma della testa è un certo appiattimento. Le orecchie del gatto di sabbia sono grandi, ampiamente distanziate e pelose all'interno, con un fitto mantello bianco che le protegge dalla sabbia spazzata dal vento. Può sembrare che le orecchie dell'animale siano più grandi della testa e che la testa stessa sia un po' sproporzionata per un corpo così piccolo e aggraziato. Grazie alla struttura insolita del muso, questi gatti sembrano carini e un po' divertenti. Le zampe del gatto di Barkan sono corte ma potenti. Il predatore può stordire la preda con un colpo da boxer. Gli artigli grandi e robusti consentono di scavare rapidamente una tana o trovare piccoli roditori che vivono nelle tane. Le suole delle zampe dei gatti Barkan sono protette da uno spesso strato di pelliccia denso e rigido. Questi guanti proteggono i delicati cuscinetti delle zampe dalla sabbia calda, consentono al gatto di non lasciare tracce e creano anche un supporto in modo che il gatto non si impantanerà tra le sabbie mobili. I gatti Barkan miagolano, ringhiano, sibilano, urlano, fanno le fusa e riproducono una serie di suoni molto simili al suono di un gatto domestico. L'udito acuto dei gatti Barkan li aiuta a rivelare le prede che si nascondono anche sottoterra. Le dimensioni molto modeste consentono ai gatti di adattarsi a piccole tane, che il gatto scava facilmente con le sue forti zampe. Il deserto non è solo il sole spietato di giorno, ma ha anche temperature estremamente basse di notte. Pertanto, un gatto del deserto ha una pelliccia spessa e morbida che trattiene il calore corporeo nelle notti fredde e impedisce all'animale di congelarsi, oltre a non far passare il calore durante il giorno in modo che l'animale non sia molto caldo. Il colore è spesso di colore sabbia chiaro con sfumatore rosse e piccole strisce o macchie appena percettibili. Questo aspetto è dovuto, ovviamente, all'abita sabbioso, rendendo gli individui di questa razza quasi invisibili tra i deserti sabbiosi e le valli rocciose. Il gatto conduce uno stile di vita solitario e notturno segreto. Pertanto i fotografi naturalisti lo cercano di notte. Durante il giorno i gatti di solito stanno in tane o caverne e diventano attivi più vicino alla notte. Il gatto Barkan, che vive nel cuore di un deserto senza acqua, va a caccia sotto la copertura della notte. Prima di lasciare la sua tana, il gatto di sabbia assume una postura peculiare nel suo rifugio, aspettando ed esaminando attentamente l'ambiente circostante per 15 minuti. Si guarda attentamente intorno e ascolta. Quindi, cadendo a terra e muovendosi quasi strisciando sulla sabbia, aggira silenziosamente i suoi possedimenti in cerca di prede. Brevi distanze, nonostante un modo leggermente strano di muoversi, gli animali Barkan superano una velocità di 40 km all'ora. Tuttavia, il metodo di movimento da 007 non impedisce al gatto di percorrere enormi distanze in cerca di prede, fino a 10 km. Esaminando il territorio, grande fino a 8 km quadrati durante la notte in una sola sortita. Questo animale vaga silenziosamente e con attenzione. La sua andatura è morbida e i suoi passi sono quasi silenziosi. Gatto del deserto è molto attento. Se ti avvicini si blocca e chiudi gli occhi in modo che il bagliore degli occhi non lo faccia scoprire. Un'altra caratteristica insolita dei gatti di sabbia è la capacità di bloccarsi completamente e così abilmente che possono essere toccati, spostati e non si muovono nemmeno. Trovare cibo nel deserto è piuttosto difficile e quindi nel cibo i gatti non sono schizzinosi e mangiano tutto ciò che possono trovare e catturare. La base della dieta sono i piccoli topi gerbilli, ma una parte significativa del loro cibo è costituita da roditori, lucertole, piccole lepri, insetti, piccoli uccelli e i loro pulcini e uova. La preda viene trovata con grande difficoltà, quindi il gatto in caso di caccia di successo cerca di mangiare per un uso futuro. Può mangiare fino al 10% del suo peso corporeo alla volta. Le principali tecniche di caccia del gatto di velluto si basano sulla caccia con l'aguato. L'udito agguto dei gatti Barkan li aiuta a rilevare la preda, che si nasconde anche sottoterra il più delle volte. Saltando fuori da un'imboscata, il gatto afferra la vittima per il collo scuotendola violentemente allo stesso tempo, quindi, strappando la vittima con denti e artigli, assorbe pezzi di cibo. È interessante notare che un gatto di sabbia può fare a meno dell'acqua per diverse settimane, dissetandosi esclusivamente a spese del cibo. Un sistema urinario estremamente efficiente fornisce loro la capacità di concentrare le secrezioni liquide che eliminano la perdita d'acqua dalla minzione frequente, apparentemente permettendo loro di sopravvivere per lunghi periodi senza bere. E nei luoghi in cui si sono fonti d'acqua, il gatto cammina regolarmente verso un abbeveratoio, a volte a una distanza fino a 10 chilometri. A volte, il predatore cattura la sua preda in lontananza dalla tana. Ma a differenza di altri gatti, non trascinerà la preda nella tana. Se la trascina sulla sabbia, rimarranno le tracce. Quando il gatto riesce a catturare più di quanto possa mangiare, seppellisce la sua preda nella sabbia per tornare più tardi e mangiarla. La capacità di cacciare i serpenti si riferisce ai talenti speciali di questi animali. I predatori attaccano le vipere di sabbia cornute, che sono rappresentanti molto velenosi della fauna locale. I gatti Barkan stordiscono facilmente il serpente con colpi precisi e rapidi alla testa e poi lo uccidono con un morso al collo. Nella sua tana, la bestia ritorna solo al mattino e fa esattamente lo stesso rituale all'ingresso della tana come quando esce, al fine di evitare incontri con i predatori. Il travestimento è una necessità senza la quale la bestia non può sopravvivere nel deserto, nelle distese in cui difficilmente può nascondersi. Il camuffamento naturale consente al gatto Barkan di nascondersi anche dall'occhio acuto di un uccello rapace. La capacità di un gatto di sabbia di muoversi rapidamente e quasi silenziosamente senza lasciare tracce sulla sabbia rende la caccia estremamente difficile. Ecco perché questa bestia rimane in gran parte inaccessibile ai ricercatori. Seguire le tracce di un gatto di sabbia è un compito praticamente impossibile. La cosa più interessante è che i gatti Barkan, anche da adulti, rimangono sempre come dei gattini. Bene, i gattini dalle orecchie piccole sono solo il massimo del fascino. I maschi e le femmine di questa specie vivono separatamente, ma i loro territori domestici si sovrappongono. Nella stagione degli amori i gatti Barkan cercano una coppia nel deserto con l'aiuto di gridaforti, che assomigliano a un cane che abbaia piuttosto che al miagolio di un gatto. Questi suoni dovrebbero avvisare e attirare il partner. L'udito sensibile aiuta la femmina a sentire questa chiamata anche a lunga distanza. Di solito ci possono essere chilometri di deserto non occupato tra gli abitati dei gatti, ma se sono fortunati la coppia si incontrerà e sarà in grado di creare una famiglia. Tali concerti di più giorni si svolgono da febbraio a metà maggio. La gravidanza dura da 60 a 65 giorni. In una cucciolata di solito ci sono da 3 a 5 gattini, che la femmina mette alla luce in una tana spaziosa. I neonati pesano 40-55 grammi e aumentano di peso ogni giorno di circa 10-12 grammi. All'età di due settimane i piccoli aprono gli occhi e dopo un'altra settimana stanno già iniziando a correre. A cinque settimane passano a cibi solidi. Nel terzo mese di vita i gattini vanno a caccia con la madre. La femmina vive con la sua prole fino a 6-8 mesi, insegnando loro a cacciare. Avendo imparato le necessarie abilità di caccia, i giovani gatti vanno alla ricerca dei propri terreni e iniziano una vita indipendente. All'età di 9-13 mesi raggiungono la pubertà. Saper nascondersi dai nemici e trovare sempre cibo? Questi re del deserto, come vengono chiamati dai nomadi, si sono comodamente sistemati in alcune delle condizioni più insopportabili del pianeta. Il gatto Barkan è una specie unica di mammifero che non è consigliabile tenere in casa. La bestia conduce uno stile di vita piuttosto segreto ed è improbabile che il suo addomesticamento dia gioia ai proprietari di un tale animale, che non potranno più dormire di notte. La convivenza causerà molti inconvenienti, perché in cattività tali gatti sono suscettibili a malattie virali e quali vaccinazioni possono e devono essere fatte all'animale per ora resta sconosciuto. Importante! Un gatto del genere non può essere trovato in un semplice canile. Un animale selvatico, come il gatto di Barkan, si riproduce raramente in cattività. Va detto che in alcuni paesi questo animale è quasi sull'orlo della completa estinzione. È un peccato che l'eccessiva avidità delle persone porti a conseguenze così tristi.